Il comando del, ovvero elimina, serve ad eliminare uno o più fai, esso accetta come parametri I percorsi dei fai, seguiti dai nomi dei fai, da eliminare Vedremo in questa lezione anche il comando rmdir, ovvero remove directory, che serve ad eliminare una o più directory, esso accetta, come il comando del, uno o più parametri Vedremo nel corso della guida, che, come il comando del, altri comandi, ad esempio il comando mkdir, visto in una lezione precedente, possono accettare più parametri Vediamo qualche esempio Per prima cosa spostiamoci sul desktop Ora, tramite il comando del, proviamo ad eliminare il fai, da rimuovere.txt Proviamo ora il comando rmdir, rimuoviamo la cartella, da rimuovere Stai vedendo ora nel video, il parametro s del comando, utilizzata per eliminare cartelle non vuote Stai vedendo ora il comando, utilizzata per eliminare il fai, da rimuovere.txt